Gainz di continuità ne ha sempre tantissima 1 contro 1 su Treyer, gambe devastanti e razzi sotto i piedi di Frank Gainz che si alza e spara, scrivete 3 per Frank Gainz La rimessa di feccia per Pocci da fuori per Gainz, il quale si alza e spara, ne segna un'altra Frank Gainz E' di nuovo meno 2, 89-87, partita a punteggio altissimo, backdoor perfetto di Frank Gainz sul bounce pass, spettacolare E' di Marti Lunen, il blocco granitico di Thomas, il quale riceve adesso da Johnson, la partenza bruciante, altro backdoor devastante di Gainz Marti Lunen lo fa, ribaltamento a una mano, una fucilata che viene intercettata da Milan Gainz, praticamente dal logo, segnare il titolo irreale, Frank Gainz Gainz però parte come un fulmile, lascia sul posto, scontata la difesa, si appoggia elegantemente di mano destra